Continua il cammino delle riforme in Parlamento, la Lega Nord è soddisfatta di come il Governo si sta muovendo? Siamo alla terza lettura della sola istituzione della Commissione per le riforme. Diciamo che siamo un po' all'assurdo perché Letta nel suo intervento sulla fiducia aveva parlato di 18 mesi per attuare le prime riforme. Ne sono passati già cinque e non è stato fatto assolutamente niente, anzi si sta perdendo veramente il treno delle riforme. Qui solo per istituire la Commissione ci ha voluto questo lungo periodo di tempo e devono ancora cominciare effettivamente i lavori. Noi richiediamo quello che abbiamo sempre chiesto e appoggeremo questa importante riforma solamente se all'interno ci sarà la Costituzione del Senato federale e quindi la cancellazione del bicarberalismo perfetto che ha creato così tanti problemi e ritardo di approvazione delle leggi da quando è stato costituito e chiediamo la devolution, crediamo che venga attuato il federalismo e tutte quelle riforme che sono alla base di uno Stato moderno cosa che per adesso l'Italia non è.